immagine riflessa vetro, vetro trasparente che ci fai specchiare dentro un'immagine lontana che assomiglia a una grandama, quell'immagine dispersa che fa perdere la testa, la vuoi ricercare e la provi ad immaginare e non sai se riprovare o lasciare stare, quel vetro così sincero vorrei che mi desse il tempo di poter pensare e di immaginare, come vorrei restare un'immagine pulita o una figura sbiadita, consigli da osservare mi farei indicare per poter creare una persona da rispettare e invece mi ha fatto ripensare e ritrovare l'immagine reale che pensavo andata persa ma era un'immagine riflessa e io sono rimasta me stessa